Sono fortunato, non sono passato il metano soltanto perché non c'è la linea che passava per cui in questo momento chi ha uso di gasolio agevolato sicuramente ha una crescita media del 30% rispetto al metano che ha crescite esponenziali. Da penalizzato a privilegiato, si sente così Tiziano da Ross, volto storico del vivaismo ai piedi del Montello. Un problema che investe tutto il settore del florovivaismo veneto con aziende che hanno già annunciato tagli e chiusure di serre relative produzioni. Noi abbiamo delle culture che si confrontano con i costi di queste aziende, soprattutto del sud, che ovviamente non possiamo assolutamente confrontarci. Quindi certe culture probabilmente per il momento non potranno più essere fatte. Un esempio pratico sono le orchidee o i geranei. Noi abbiamo cambiato un metodo facendo una mezza cultura avanzata per cui al posto di mettere dentro le piante a fine gennaio le mettiamo ai primi di marzo quindi evitiamo i costi di questo periodo. Fin qui per il riscaldamento, ma nelle serre, è forte anche il consumo dell'energia elettrica. Che nonostante tutto incide circa, diciamo, un costo quasi doppio a qualche mese fa. La sua ultima bolletta è giusto per sapere? 4.300 euro. Prima? 1.800-2.000. Oggi Tiziano da Ross sorride perché è San Valentino. La rosa è per cui domina sempre il mercato. Rose rosse soprattutto. Senta, ci dica la verità, quanti per, diciamo, la consorte, per la finanzata e quanti per l'amante? Questo non lo sappiamo mai. Rose però con qualche dimenticanza. Voi vendete fiori, ma suo marito le ha fatto fiori? No, fiori ancora no, qualcos'altro. Sembra attuale il vecchio detto che il calzolaio gira sempre con le scarpe rotte. Infine, parlando di fiori, immancabile la domanda sul significato. Si dice sempre, ditelo con un fiore. Visti gli aumenti, vista la situazione, che fiori regalerebbe ai nostri politici? Ma sicuramente una rosa, ma magari solo con le spine. Visti gli aumenti, vista la situazione, che fiori regalerebbe ai nostri politici?